Musica 74 km di rete autostradale, oltre 150.000 veicoli in transito ogni giorno. CAV, Concessioni Autostradali Venete, è scesa nelle piazze di Treviso, Mestre e Prato della Valle a Padova per raccontarsi. Ci piaceva che la gente sapesse che dietro a un'autostrada ci sono una serie di persone che lavorano con grandissima passione per un servizio che sia sempre migliore. Noi abbiamo l'onore di essere tra le concessionarie più all'avanguardia tecnologicamente, abbiamo la Contro Room Mobile, siamo tra gli unici in Europa, con un furgone completamente elettrico. Abbiamo un parco elettrico che è oltre al 30% e conta di arrivare al 70% nel giro dei prossimi tre anni. Abbiamo un sistema di assistenza con droni, abbiamo un sistema di presenza con nostri ausiliari H24. E quindi oggi spieghiamo questo a tutti gli utenti che quando percono l'autostrada non sono mai da soli, ma sono sempre assistiti e seguiti in modo confortevole e sicuro dal gestore autostradale. Ed eccola la nuova Mobile Contro Room. Lo gestiamo attraverso le 180 telecamere che abbiamo in visualizzazione con zoom e brandeggio, nel senso che posso girarle a 360 gradi o zoomarle a un 20x, quindi posso andare tranquillamente a verificare se c'è una criticità in strada. Nel momento in cui noi andiamo a verificare se c'è una criticità, attraverso una piattaforma di gestione dei pannelli e messaggi variabili lungo la strada, indichiamo all'utenza le strade alternative oppure l'indicazione che c'è un incidente. Fiora all'occhiello, l'ufficio mobile. Ne siamo molto orgogliosi perché per la prima volta il servizio va incontro ai cittadini e non sono i cittadini che devono recarsi all'ufficio per richiedere il servizio. Noi ci crediamo molto e speriamo che i cittadini lo apprezzino. Sicurezza e sostenibilità ambientale, è questo l'obiettivo di Riparti con CAV, la campagna riservata ai residenti delle province di Venezia, Padova e Treviso, che offre il Telepass Family per due anni a canone gratuito. Vogliamo incentivare soprattutto la categoria degli automobilisti a usare queste nuove tecnologie dell'e-pass per cui non si devono fermare al casello a prendere il biglietto a pagare e siccome molti sono scoraggiati dal costo del canone, il canone lo paga a concessione autostrada di Venete. Una giornata a braccetto con la polizia stradale che ha colorato di azzurro polizia Prato della Valle con i suoi mezzi, ammiratissima la Lamborghini. La polizia di Stato deve vivere insieme alla gente e per la gente, siamo al servizio della gente e quindi è importante che ci si conosca, è importante che si abbia anche familiarità e confidenza con questa che è un'istituzione, ripeto, nata per servire il cittadino. Grazie a tutti.